papo dell'amico ciao matteo ehi la ciao ragazzi ciao a tutti benvenuti benvenuti al pub dell'amico pub un po' vuotino oggi eh vi avverto subito che non sarà un pub beh è certo matteo sono tutti a luca comics tutti dal primo all'ultimo siamo solo io e te per ora no un po' vuotino l'ho detto che è completamente vuoto vuotino allora allora dimmi niente no scherzo scherzo eh lo so sono a luca sono a luca c'è stato luca c'eri anche te no no non c'eri oggi no domani vado non è stato domani 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 certo certo io ho l'ansia per questo luca comics peraltro perché eh non lo so mi mette ansia luca comics ma lo sai che io anche io ho un pochino d'ansia devo essere sincero perché è il mio primo luca comics diciamo dove forse vengo riconosciuto no e siccome inizia ad accadere un po' al giro questa cosa qua tra l'altro un po' da tutte le parti ringrazio sono contentissimo però mi imbarazza a me questa cosa perché ti imbarazza alla fine non è che ti fanno oddio anzi vengono lì fanno due chiacchiere tranquilli cioè è bellissimo è bellissimo però non sono abituato non sono abituato e infatti lunedì sono contento di esserci sono per pochissimo riesco ad esserci in che senso perché dici perché me l'ho scordato che perché me l'ho scordato che uscivano biglietti ah sì ci sono i biglietti limitatissimi sì se ne hanno aggiunti 10.000 però sono molto limitati tra l'altro io ho fatto il vaccino da poco e non ho ancora il green pass attivato quindi mi sono dovuto organizzare con i tamponi è un bel casino bel casino perché allora io ho visto delle foto e ho visto che c'è molta meno gente in giro però per entrare in uno stand ci vogliono 30 40 minuti di fila è veramente un bordello addirittura si 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 veramente un bordello tra l'altro ci ha messo anche ha messo anche brutto tempo vabbè quello un classico non mi stupisco per niente ma infatti ma infatti io ero stupito che oggi ci fosse il sole perché l'ho detto oggi a giulia l'ho detto guarda io in tutti i lucca comics che ho fatto con dario e ne ho fatti tanti che l'abbiamo fatti tutti poi fondamentalmente da quando ci si conosce non ho mai beccato il sole mai ma d'altra parte così comunque matte ti rallegro la serata perché perché oggi c'è un ospite non mi ti ascoltato secondo me ti ho ascoltato brutto tempo ho fatto lucca con dario stavolta il sole eccetera eccetera allora oggi c'è una nuova ospite nuova ospite streamer quindi per ora sempre in topic per ora non utilizziamo i sub cerchiamo di portare avanti questo pub dell'amico tra di noi poi l'aperitivo verrà introdotto prima o poi perché abbiamo già fatti ti provi lo so lo so chi è non c'è mai stata non c'è mai stato detto sì 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 allora non lo so chi è una una ragazza sì una ragazza una ragazza che ci segue da tanto tempo che avevate invocato a da molto tempo io ho deciso di invitarla anche perché ho notato una cosa vabbè comunque la invito e festa finita ciao mona sean benvenuta da posto matte ciao non la vedo come non la vedi è bloccatina aspetta ok ci vedi ciao ragazzi ciao 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 stai laggando come un mostro forse per la connessione di luca comics sì ti si vede ti si sente oddio a me lagga un po no stai laggando effettivamente molto però è luca di merda mi sa non il vedo però mi lagga un po' devi stare tranquilla ok adesso ci vedi ci senti sì sì sarà la connessione tutta posto come andato luca ciao 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 bene era la prima volta che andavo quest'anno proprio primissima primissima e ho notato una cosa c'è stato il sole tutti dicono sempre che piove a luca domani c'è il diluvio universale no ti prego per favore lo fanno tra l'altro dalle scritte cringe alle spalle presumo che tu sia in un bed and breakfast sì c'è una casa affittata una casa affittata degli studenti eccetera senti mona sean allora io ho deciso di invitarti perché ho visto delle tue storie al ristorante via di guinceri sei andata da mi padre ieri sì 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 ieri sì come sta come andata a pranzare molto bello posto bellissimo fighissimo poi c'era pure il cameriere che era preparatissimo mamma mia stupendo la carne squisita abbiamo mangiato una carne io non mangio molta carne in realtà però ho voluto assaggiare se non sbaglio era un maiale pecora non lo so si chiamava in questo modo ed era veramente buono cosa annuisce che cos'è matte il maiale pecora allora allora mettetevi sapere che io l'altro giorno ho visto il video su youtube che il tuo abba e la tua mamma sono venuti a trovarti allo studio a sorpresa certo e tu parlo ne parla tu parla cosa vuoi dire tu parla e spiegami che cosa parla perché praticamente io non lo so cos'è però ok allora hanno iniziato a farli stai zitto un attimo stai buono oddio quando hanno iniziato a fargli le domande sulla roba tipo delle regioni tu parla tirato fuori il maiale pecora per l'affare lì come fa come è fatto il maiale pecora monashon forza tocca a te non lo so non so come è fatto secondo me un maiale peloso bianco non lo ci sta come interpretazione top è comunque no ma perché se te che ti blocchi ma se con il 4g o con il wifi ho capito se col 4g e solo il wifi e allora ti vogliono andare col 4g perché ti stanno pupando la connessione 4g ti tocca prova il wifi prova il 4g 4 con il 4g aspetta un secondo che provo a staccare prova un attimo scrivere fino ai 4g ok vedi adesso ti si vede bene 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 lei è quella del meme mai vivo purtroppo sì purtroppo sì è stata riconosciuta anche per quel video di con paolo sì sì io ormai sono riconosciuta in questo modo ma ti dico bene c'è visto diciamo dopo a posteriori quel meme lì sei comunque oggetti e sei ok ormai cioè oppure ti dice un po' il cazzo essere riconosciuta per quella scenetta lì cioè per quella roba che è successa lì non pensavo cioè non mi immaginavo di essere un giorno riconosciuta per questo diciamo per aver pianto su internet quindi un po' mi cringe a sta cosa onestamente più che altro la gente che entra in live mi scrive ma è vivo ok alcuni lo fanno per il meme però onestamente mi dà un po' fastidio questa cosa immagino immagino sì 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 vanno tutti vanno va bene ci sta se ti sta sul cazzo un meme non lo vogliono capire o fare le tue scelte insomma la prima volta e come ti è sembrata questa lucca un po' atipica perché ti sei un po' no questo non lo posso dire diciamo che c'è stato il battesimo del fuoco con lucca comics volevo dire un'altra cosa ma non te lo posso dire che sarebbe ineducato e con una lucca comics molto particolare cioè con persone un meno persone biglietti ridotti come l'hai trovata però allora a me piacciono sempre le fiere in generale che il fumetto e non lo so non so metterla paragone onestamente come era negli anni successi negli anni precedenti perché tutti si sono un po lamentati del fatto che comunque non era organizzata bene quindi cioè dal mio punto di vista ho visto una bella fiera però magari mancava forse un po' la parte dello shop statuine vabbè ma tanto di solito lucca sulle statuine ti inculano ciao tizio ciao masullo ciao a tutti ciao 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 mona tra l'altro dalle parti di milano un po' strano voi conoscevate la signorina mona shon è grande lei è stata in squadra con noi quando tu non c'eri a rust cosa fai su twitch spiegalo un po chi non ti conosce allora io sono una streamer varieti diciamo faccio league of legends ogni tanto valorant però non sto portando più warzone non è che sono una pro player mi piace giocare buonasera a tutti ciao santone ciao e faccio anche smr come sento sono cosplayer tutto fai è entrato il cerbero ma c'è solo marra da una parte tagliato sto parlando sto parlando con nanni tra l'altro che non so che cazzo vuole e vabbè vorrà succhiare un po d'abbonati anche da voi ciao ragazzi ciao 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 ragazzi ciao senti ma spiega un po' l'smr io è un mondo che non ho mai capito del tutto no cioè ok perché l'smr c'è sempre no è il solito pregiudizio delle orecchie leccate veste la sevilla eccetera eccetera però l'smr è anche altro no per esempio vedendo vedendo il tizio come cioè no lo guardi in faccia cosa faresti di smr per cullarlo per stuzzicarlo e cullarlo io permetto che seguo chi fa smr c'è una stream che seguo che fa smr che trovo abbastanza brava e credo una delle storiche chiara smr ma non ti ci fai la sera è bravissima lei fa l'smr come deve essere fatto cioè così in modo normale ma non è proprio questo l'smr è che c'è il corvo rockefeller uscito da drive in a newton bellissima bellissima che masullo e masullo semplicemente masullo e tizio però non ti ci fai quindi le seghe su questa cosa no perché no perché no è tuttanto spiegate spiegate tipo riesci a raccontare una storia con l'smr una roba di certo puoi parlare col whispering che praticamente il sussurrare parlare in questo modo con un microfono impostato bene ci sono diversi tipi di microfoni voglio fare una domanda a flame fondamentale flame te che c'hai questo vocione no c'hai questo vocione roboante ma che vocione ma non è vero non ho un vocione una voce di una fatina e te utilizzi le voci un po più fioche un po più dolci per addormentarti o rilassarti per esempio seguile il mondo dell'smr guarda c'è stato un periodo che l'ho seguito ma parliamo proprio di prima di twitch tipo tre quattro anni fa che ci avevo fatto un video su youtube però che mi era vicinato per questo motivo e quindi ho fatto un po di ricerca e ho trovato qualcuno che lo faceva molto bene però comunque ovvio c'è sta sempre quel minimo di cosa sessuale che poi comunque va a scadere dopo l'immediato almeno nel mio caso è stato così per relax no specie su twitch non mi è mai successo di mettermi là per relax anzi a essere sincero spesso mi dà anche molto fastidio ma scusa voi avete mai utilizzato qualche suono qualche musica per addormentarvi oppure vi addormentate stecchiti così naturale c'è stato un periodo che mi addormentavo solamente guardando qualcosa quindi mi metteva stecca o cose marvel che avevo già visto per l'ennesima volta quando c'è stato il periodo quello là tipo ridosso the end game ho fatto tipo il macina tutto oppure serie tv oppure però la poi si crea un danno non ricordarti dove cazzo sei arrivato è vero mi sveglio mi addormento mi sveglio e quindi spesso poi non mi gusto una serie quindi è una cosa che mi inizierà da fastidio e poi ho smesso però solo cose che diciamo già visto dai succede anche coi fumetti io mi sono accorto che se mi sto per addormentare mentre leggo un fumetto il giorno dopo non mi ricordo se l'ho letta quella parte non l'ho letta è veramente devastante sto stati fatti in tà ti invece ma l'unica cosa che fa che fa addormentare per l'appunto è leggere perché guardare video mi dà uno stimolo troppo forte visivo e quindi mi mantiene troppo attivo invece se leggo mi rilasso e dopo un po di tempo con dispositivi spenti mi addormento altrimenti non prendo praticamente mai sonno poi adesso ho la nonna di asia quindi del tuo carillon quindi è ottimo terriso beh la risposta anche abbastanza scontata guardandoti in faccia però cos'è anche per addormentarti vabbè a parte quello che si può vedere anch'io guardo film già rivisti ok a fuoco proprio ma anche roba cioè posso guardare anche il solito film per una settimana di fila è uguale quali sono i film i film volume attenzione io metto pieraccioni guarda te lo dico così pieraccioni soprattutto l'ultimi sono veramente soporiferi sono soporiferi soprattutto tipo fuochi d'artificio quella roba lì mi metto lì e arrivo a patata e buonanotte guarda quando era così guardavo le live di green mode va bene un bel dissi così non lo conosco non lo conosco è quello che invita tiktok che parla di asia nel culo senti e temono sean cosa temono sean a parte cazzi nel culo cosa utilizzi per addormentarti ma io guardo cioè no aspetta non intendo che vabbè non volevo intendere che è uscita male ma è uscita molto malissimo no nel senso vabbè vai dimmi te lo hai capito a parte cazzi nel culo virgola cosa utilizzano lasciano per addormentarti anche volendo ma io guardo tiktok fino a quando tipo mi cascano gli occhi oppure pure video smr tiktok quanti anni hai te 23 ah ok sei giovanissimo ma ti fa ridere qualcosa i tiktok pure cringe e basta allora una volta dicevo che era cringe lo reputevo molto cringe poi l'ho scaricato un giorno ed è stata alla fine perché è una droga cioè nel senso devi scorrere sempre perché c'è sempre un video cioè non sai mai cosa ti troverai dopo ci sono c'è cringe e ci sono cose belline veramente belline ma non ce la faccio no anch'io poco ho visto non ti piace tiktok pochissimo a te dario non ti piace tiktok no non è che non è che penso che siano tutti balletti di merda però probabilmente io quando mi sono messo a guardare ci avevo cursato l'algoritmo e mi arrivavano in faccia solamente stronzato gente con evidenti non dico problemi ma insomma comunque con evidenti problemi che facevano delle cose assurde non mi sono meglio quelli guarda che quella tipologia di persone sono quelle che seguo io guardiamo pure ogni tanto qua al cerbero com'è che si chiama ragazzo ragazzo c'ha 80 anni massimo leggendario è un fenomeno discusso buonasera salve buonasera ecco luce luna sono contento perché comunque abbiamo anche il parere di un'altra generazione dato che lei fa ancora elementari possiamo comunque cercare di no è vero vabbè ho capito marra però non mi rompe i coglioni scusami ho capito non riso io inaspettata cioè prima infatti io ho detto a te non me la so presa sei un ipocrita perché prima facevo versi mentre il povero rubino rispondeva al sondaggio li devi come un pazzo scusa era un verso però ma io ridevo per rubino ah ridevi per rubino certo va bene comunque vence te invece cosa usa per addormentarti come ora il suono metto sulla tv il suono del phon o un rumore bianco quindi statico bellissimo il suono del phon però ci fu un periodo dove mi addormentavo con i video di sabaku con la sua voce non è una cosa negativa non è che siccome si addormenta allora è noioso anzi vabbè ora non difendere sabaku luce luna ti prego i video che avevo già visto li rimettevo così la sua voce era una sorta di nina nanna piaceva non è mica un'offesa ma io sono pienamente d'accordo ma mi è capitato spesso pure a me io nell'algoritmo di tiktok adesso sono i punti neri che vengono spremi madonna lo sai che ci sono capitato anche io ci sono capitato anche io quella roba è bellissimo perché è tanto disgustoso è tanto disgustoso quanto magnetico però cioè marra marra io non lo so se te lo fa anche a te ma a me non mi fa un cazzo schifo no no anzi cioè appunto è un magnetico no anzi che buono no 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 superi superi l'iniziale pregiudizio dopo un po' ne godi ma scusa a te rilassa anche vedere i tuoi stessi punte nere strizzati? sì ok vabbè no non è che mi rilassa no non è che mi rilassa mi dà soddisfazione soddisfacente soddisfazione ciao Vic bella Victor bella Victor ragazza sera il problema è quando sono palesemente fake che cazzo puoi va bene palesemente fake spiega come eh perché a volte di questa cosa del che spremono brufoli punti neri a volte sono palesemente fake cioè sono tipo delle si comprano apposta tipo dei pezzi di gomma e ci sono tipo dei fluidi con cui riempire questi pezzi di gomma e poi li spremono è un antistress è quella roba lì che hai detto tu è un antistress che vendono si trova serve proprio per sì sì è un antistress però siccome è fake e quindi esce sto liquido gigantesco e fa schifo Lucelura ma tu stai dicendo sul serio? sì sì li vendono è vero no li vendono veramente? è vero è vero sì sì mi state dicendo che la mia vita che la mia vita è stata un inganno fino adesso no vabbè magari alcuni erano veri alcuni saranno anche veri non tutti cioè se sono addosso le persone lo vendono su Wish quella cosa sì 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 lo vendono lo vendono questa cosa lo facciamo in live questa è una cosa gravissima e ti invece s'antone che sta facendo palesemente un esperimento non so cosa cazzo no sto sto rigenerando una sigaretta elettronica ah stai rigenerando lui li produce secondo me lui produce i liquidi per sembra stavolo il cero delle sigarette specialista sembra che se sei mai sta a fare la bomba i liquidi per i punti neri fake esatto però buon cazzo potrebbe essere un grandissimo business grazie per l'idea e senti santone te invece cosa usi per rilassarti? per dormire ma guarda io devo leggere se no visto che non dormo sono arrivato a un punto che se non leggo non riesco a dormire quindi mi sto facendo tutto guard tennis adesso bello ma come fai dormitati con guard tennis che ci sono budella ogni tre secondi violenza estrema cosa di guard tennis per curiosità tutto ho letto tutto The Boys tutto Preacher ho preso tutti i dread punitore si punitore per favore appena puoi recuperare il punitore di guard tennis che è una roba ce l'ho basta che non prendi i cost anche a me i cost l'ho comprata tutta ahia sono andato sulla fiducia l'ho comprata tutta me l'ho fatta 150 euro intera se ne voleva liberare quello del negozio glielo ho comprato Lupeto se ne voleva liberare Lupeto a canna chin stop up bellissimo questo commento vabbè allora Lupeto chiudo tutto ti preoccupare e il blazer è d'obbligo il blazer ce l'ho l'ho anche di quello sono letture rilassanti comunque ti distengono ti distengono per andare a dormire per me ma io sono d'accordo sono d'accordo ma a me i fumetti non riesco a addormentarmi quei fumetti un libro un saggio un libro di narrativa sì ma un fumetto no perché mi fisso a guardare determinati disegni determinate vignette come vengono fatte non riesco a a distaccarmici e quindi non invece magari c'è troppa roba da vedere c'è troppa roba così e va bene classico a te Victor cos'è che rilassa hai bisogno di qualcosa per andare a dormire sì io ultimamente sono due mesi no anzi di più tre mesi che non riesco a dormire se non ascolto io sto ascoltando tutti gli audiolibri di Harry Potter quelli letti da pannofino ah ok sono una roba sono arrivato adesso sto facendo il settimo io sono tre mesi che mi mi sveglio con l'audiolibro che è andato avanti di sette ore sì perché me lo metto tempo dieci minuti sono per terra e ricominci gli sogni di Hogwarts ogni Hogwarts che capita che fa sogni strani eh? non ho capito che capita che fa sogni strani tipo Hogwarts assolutamente sì sì ah bellissimo Vick apre gli occhi e fatti buoni allora se parliamo di sogni devo chiedere se sapete cos'è lo shifting la tecna dello shifting è inquietantissimo cos'è lo shifting però allora io ci provo da un sacco di tempo voglio capire come si fa vai vai allora praticamente per chi non lo sa è una tecnica onirica un po' come i sogni lucidi ok però lo shifting è proprio una cosa che puoi decidere tu ovvero ci sono varie tecniche no? ma tu puoi decidere dove andare nel tuo sogno quali persone ci devono essere che ruolo hanno quelle persone qual è il tuo ruolo in tutto cioè è come se fosse una realtà di me è John in the morning master di R&D master di R&D ma scusa io ho la parte bella del sogno e come fai? ma lo controlli tu cioè tu è come se fossi e come fai? vivo io al sogno lucido ci sono arrivato ma lo scissi allora io conosco una sola tecnica che è quella più comune in realtà cioè quella più diffusa dove praticamente si scrivono le cose su un foglio e lo si mette sotto il cuscino e tu prima di addormentarti devi pensare a memoria cioè tutte le cose che hai scritto almeno ma sai quante volte l'ho fatto io ma c'è questa ma c'è questa ma c'è una leggera c'è più scientifico dietro sta non c'è immagino ma c'è una leggera che dice quanto è pericoloso sì perché poi dentro le curvature devi avere una specie di safe word quando sei là dentro perché il tempo scorre diversamente cioè tu potresti dire che là dentro praticamente un'ora uguale a un mese tipo la stanza dello spirito e del tempo vi giuro che è vera però questa cosa ma te hai vissuto veramente un'esperienza del genere no io no io no però una volta io ho segnato due volte lucidamente cioè ho fatto due sogni lucidi nella mia vita è stato bellissimo però dicono che lo shifting è ancora più bello perché è come se tu ti svegli ti svegli che sei nel mondo che hai deciso tu un botto di persone per esempio lo fanno con Hogwarts sei l'io ma si fanno anche scelgono di di entrare ad Hogwarts ci sono tipo i personaggi di Harry Potter tipo che vivono proprio là lì è una cosa un po' a parte gli scherzi ma come molto strano cioè si aiutano anche si aiutano anche con delle droghe o delle che cazzo ne so anzi nel caso nel caso il DMT sono serio è quello che serve per far sta roba ma come è che si chiama shifting shifting quindi devi addormentarti shifting mine no credo no 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 non credo vabbè che ho detto a parte gli scherzi no salutone sorella ma dico anche perché devi stare attento a non morire tutti terrorizzati da questa parola a proposito di Harry Potter ma che avessi nominato Voldemort no è che ha avuto un silenzio tombale diciamo che era un tantino una freddura ecco non era molto sorella sorella aspetta posso spezzare questo momento facendovi vedere il cd di Metal Carter ottimo ok sempre un grandissimo Metal Carter a ghiaccio di ghiaccio volume 4 no che è venuto qua ospite e ci ha lasciato questo cimelio bellissimo che noi cerchiamo da dare ogni ospite a nostra volta e te tizio invece cosa usi no sono abbonati libri e per un periodo ho usato un'applicazione di suoni rilassanti tipo che ne so la pioggia temporali robe del genere ASMR sì diciamo di sì senti tizio parliamo di cose serie qua che ne pensi l'ultimo film di Venom porca non l'ho visto non l'ho visto ma li guardo bene dal farlo no la garbaccio ha visto vedrai io mi sono addormentato durante il primo e gli ho fatto il trattamento peggiore che puoi fare a un film cioè guardarlo con l'avanti veloce saltando da scena a scena quindi questo ti fa capire la mia da lì capisci ma a questo punto lo guardi direttamente dalla barra no mettendo il film confronto a queste quattro potere esatto a giro due film supereroistici preferiti a testa prego vai riso parte riso si va in ordine forza spiega posso mettere tutta la trilogia di Christopher Nolan di Batman sì dai facciamo di sì dai Marra dal permesso sì te lo fa bene no non lo so facciamo un'eccezione grazie ok la puoi mettere ma perché per te sono sullo stesso livello diciamo sì esatto cioè lo metto in un'opera unica lo considero un'opera unica ok e poi secondo posto Dragult ti è piaciuto? Spiles no sai che riguardo sempre io molto volentieri homecoming forse me lo me lo gioco lì ok te Mona Mona scusa Mona prego per quanto riguarda Marvel vabbè Avengers se volete mi potete chiamare Ramona se mi fa così ah Ramona certo basta chiedere basta che ha tutto quello che vuole Avengers eh sì che c'è cosa succede Avengers Endgame piccola duretta no no c'è il delay c'è il delay c'è il delay non ti capiamo mai se no mi sta laggando no ma poco vai tranquilla dicevi Avengers Scott Pilgrim hai detto no Avengers Endgame poi Thor Ragnarok non lo so sono troppi film no vabbè sono un bilagio però questi questi mi sono piaciuto io ti invece dico Spider-Man 2 sì troppo bene e di Raimi sì 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 e ti dico Hellboy 2 vai bello ah è vero l'arma d'oro l'armata d'oro bellissimo bello il primo è un po' una palla carino però è carino un po' controcorrente il mio primo film preferito è Thor Ragnarok poi il secondo Ant-Man and the Wasp ma non è rinor no dai Ant-Man and the Wasp no ma serio ma stai trollando stai trollando dai no no sto serio e il terzo guarda erano tre o erano due o tre due tre no due Hulk del 2002 sono due erano quello di Ang Lee no quello di Ang Lee bello in culo a me è garba tantissimo è il mio terzo film preferito bello quello vabbè anche a me piaceva parecchio comunque quello di Edward Norton no quello Ang Lee quella è una bella merda quello era che era del 2007 con Eric Bana Eric Bana quello che è Eric Bana diretto da Ang Lee Iron Man che era tutto suddiviso tipo fumetto era veramente assurda quella roba vabbè tizio mi ha rispetto ai fumetti non rispetta tu metti no invece li rispetta fin troppo è quello il problema ma che cazzo ne bega babbo di minchia è bellissimo babbo di minchia c'è capenza di troppo grossi c'è capenza di troppo grossi Francesco Luke di Ang Lee è uno dei migliori cinecomic mai fatti però adesso mi dissento nella maniera più più totale vi dico in ordine in maniera seria così per lasciare una cosa buona guardiani della galassia 1 Spider-Man 1 di Sam Raimi e Spider-Man 2 di Sam Raimi per me Electra e Daredevil va bene c'è anche Catwoman che era proprio un capolavoro io credo il DVD di Electra ancora incelofanato da quando uscì capolavoro assoluto Benz invece io direi il Batman di Burton e Iron Man il primo Iron Man dell'MCU ok prima ancora che diventasse MCU ok ci sta loro due Santone ma io Watchmen in assoluto Spawn che combo quando ero piccolino c'avevo il CD me lo sono visto una marea di volte ma ero talmente piccolo che mi metteva pure un po' ansia ma perché Spawn è rimasto un sogno che lo facciano bello cioè quindi è finissimo a me la cadenza settimanale McFarlane dice che è lì lì per far uscire il film sono dieci anni che ogni settimana siamo lì lì sta per uscire vedrete è da sempre no poi a me Watchmen è piaciuto tanto perché per me Manhattan è fantastico come personaggio indipendentemente sapete qual è bello quello con Liam Neeson ah Darkman dici te Darkman bravo ah quello di Raimi è vero perché lui è protagonista che ne hanno fatti tre però mi sembra che poi lo cambiano l'attore no no in secondo e terzo in secondo e terzo non l'ho visto neanche perché non essendo suoi bello Darkman sì come no che era tutto bruciato che si copriva come no mi faceva pure paura bello Darkman non mi sarebbe mai venuto in mente però se vogliamo parlare di cinecomics è anche fighissimo appunto come citavo prima Scott Pilgrim a me è garbato tantissimo anche Logan Logan ma ce ne sono tanti anche Batman insomma i due di Tim Barton mi sono veramente il due è un cavolo forever forever è una roba pazzesca e lo scuso non forever il ritorno il ritorno sì sì vabbè ma se era capito forever top film ma io forever quando ero piccolo io avevo anche tutti giocati cioè per me era un film è vero era perfetto per i bimbi era fatto apposta per il film io volevo dire il ritorno ovviamente era quello di quello di Schumacher ci fecero praticamente un sacco di gadget infatti mi ricordo si lui sul set di Batman e Robin diceva agli attori dovete sentirvi come in un playset dovete sentirvi dei giocattoli gli diceva così proprio li dirigeva così top regia grande Schumacher un regista incredibile grande Lucelluna te apprezzi i cinecomics? sì sì allora diciamo che anch'io al primo posto mettere una trilogia ovvero quella di Spider-Man cioè quella di Rami con con Toby McBuyer a me sono piaciuto di tutti nel senso io sono una persona poco che quando deve criticare critica pesante cioè a me piacciono cioè io mi diletto nel senso lo faccio per piacere personale guardo i film anche per piacere personale guarda quell'altro poi mi piace molto non lo piglieresti a coppini fortissimi no dai apprezziamo il suo lato speciale apprezziamo il suo lato speciale e ci iniziamo poi poi diciamo al secondo posto Logan cioè diciamo che a me i film di Wolverine piacciono tantissimo e al terzo posto Jean Grey mi è piaciuto davvero tanto l'ultimo film che è uscito Dark Phoenix sì mi è piaciuto molto è male hanno sotterrato le copie in Texas ho saputo sì la storia di Jean Grey è un po' complicata cioè se ti leggi il fumetto c'è un casino che è tipo quella finisce nello spazio e poi torna però poi si scopre però il ciclo il fumetto era figo la luce Luna recuperatelo se puoi perché il ciclo c'è anche un omnibus credo su Dark Phoenix è veramente una figata secondo me facciamo una menzione anche agli X-Men di Bryan Singer vero vero dei grandi Magneto il personaggio bellissimo sì mi ha fatto un po' cagare un po' tanto cagare Apocalisse brutto è proprio brutto mamma mia ma ci sono rimasti eccolo lì perché anche sì anche Briegel mi piacquero sì quello non so perché poi dopo Giorno di un futuro passato che era comunque stato un gran bel film bello è arrivato Apocalisse che boh non capisco cosa sia successo è vero però ce ne sono stati ce n'è un altro ah e Winter Soldier non era affatto male bellissimo bello per me prima di Eternals era il migliore fatto nell'MCU secondo me poi arriva ad Eternals Dottor Strange a voi è piaciuto che a me è affascinato un po' sì dal punto di vista mi piaceva il trip io aspetto con ansia il secondo secondo te Tizio Dottor Strange rispetta il fumetto dipende da che punto di vista i fumetti questi sono fumetti che sono da 60 anni hanno avuto miliardi di visioni diverse e quindi sicuramente un autore di riferimento ci è stato per un determinato fumetto il perché non mi piace l'urc di Ang Lee per dirti è perché ti spiego perché ti spiego perché perché prende due linguaggi che sono uno l'antitesi dell'altro cioè il mettere immagini statiche in sequenza che è il fumetto e i fotogrammi di un film se tu mi prendi due cose due linguaggi diversi e li metti uno sopra l'altro io so che fai finta di non cagarmi in realtà mi stai cagando pezzo di stronzo fai un visticcio di linguaggi e non mi piace ci sta ma dipende come lo fai secondo me lui l'ha fatto molto bene sì anche secondo me l'ha fatto bene però allora io per addormentarmi caffè, sigaretta e una sega ah sei rimasta la domanda è vero è una bella playlist su youtube è rimasta la domanda stai zitta dei tributer no no scusa mi scuso da parte di Masullo perché è napoletano sai le cose si hanno rubato il tempo Masullo no prego è napoletano è film Sin City e se si può considerare supereroistico Birdman bello Birdman ci sa che cosa Mar sa che è convinto no no non è un brutto film vabbè non lo definirebbe un cinecomic è quello allora allora ti dico Guardiani della Galassia perché mi ha fatto ridere no è bello è bello guardiani della Galassia è proprio bello ha fatto ridere ha fatto ridere ha fatto ridere lui sai sport il 2 bello piaciuto bello ma perché non te l'aspetti ci ha dato un esplomoso senza fa spoiler non so se fate spoiler in chat dicono Unbreakable effettivamente è un inizio esplosivo cioè già dall'inizio del pian sacco bello Unbreakable cazzo e invece io voglio parlare di una cosa con voi Lightyear io ho visto bellissimo ho visto ieri il trailer a me sembra figo e c'è uno su youtube che mi ha trasversalmente contestato dicendo che io critico sempre i nostalgici quelli che vogliono a tutti i costi dei reboot eccetera e mi ha criticato perché ho apprezzato Lightyear però io penso che veramente abbia delle potenzialità enormi infinite ma questo non è né un reboot né un remake cioè non è è una storia nuova comunque con un personaggio vecchio a me veramente è più riferito alla serie a me hai citato più che altro il fatto da Comando Stellare quella no? sì sì la serie animata è Comando Stellare certo vabbè è la lore dietro il pupazzetto praticamente la storia però potenzialmente è infinito cioè perché viaggi nello spazio i pianeti i zurg le cose secondo me viene fuori una cosa allucinante senti Dario ma secondo te se va bene questo film non potrebbero fare anche un film su un attore di Woody e fare un western sì sì l'ho già detto secondo me rifaranno la Woody's Roundup cioè il western sulla Woody's Roundup ma sicuramente ma tu non hai detto i tuoi però Sergio Leone animato non ho detto i miei accoltano anche gli animati prova ah c'è Into the Spiderverse per me Into the Spiderverse assolutamente a tappeto proprio e poi direi che anch'io metto il ciclo di Nolan perché calcolo l'unicum e poi e poi basta diciamo sti due dai senti dimmi un po' sto Spider-Man 3 dizio bello è tutto quello che non mi interessava vedere cioè io non c'ho questa nostalgia di cioè il nostalgico su Spider-Man del 2002 non mi riesce ad esserlo e quindi tutta questa emozione oddio c'è Octopus oddio c'è non me ne frega niente non era quello che mi interessava vedere ma che c'entra no dice Spider-Man 3 di Raimi tizio no ah di Raimi e che devo dirti è che è stato un guazzabuglio che purtroppo Raimi ha dovuto accettare cioè Raimi è veramente una storia gli studi gli hanno detto fanno un'altra poi c'è Masullo che rende bene l'idea le scene finali sono tre finali di fila finale commovente uno oddio è morto Harry poi due secondi dopo va l'uomo sabbia finale commovente due l'uomo sabbia altra musichetta altro finale tre finali commoventi di fila messi di seguito non mi è mai piaciuto ok sono d'accordo in realtà ma infatti Raimi non voleva fare solo quello ma doveva farne un quarto però dal punto di vista visivo è una bomba e comunque la caratterizzazione dell'uomo sabbia fa paura la scena delle origini è bellissima l'ho visto ieri la scena lì è qualcosa di pazzesco ma anche quando lui si trasforma proprio all'interno del capannone con la sabbia è incredibile la prima quando prende la medaglietta della fine è una cosa su quello sono d'accordo sono confermati che ci sono anche gli altri due confermato no confermato no perché io non ho visto niente però come tutti lo ripetono però è probabile è il segreto di pulcinella a me è piaciuta anche la scena della campana cioè quando si stacca il simbionte il problema è la parte dopo per me visivamente quando un film è così comunque è un bel film c'è poco da fare poi è ovvio che metti troppi cattivi Venom ha sacrificato Harry il film in sé non è granché però visivamente cioè il punto è questo Remy credo sia impossibilitato a fare qualcosa di visivamente brutto cioè non ce la fa è per questo che io attendo Doctor Strange 2 mi hanno detto deve essere sarà il primo film horror della Marvel l'ho sentito anch'io questa cosa sì un horror per ragazzi molti fanno ma come fanno non è possibile e allora io per tutta risposta dico guardatevi la scena dell'ospedale di Octopus di Spider-Man 2 è così che si fa lo fai così non c'è una goccia di sangue che sia una ed è bellissima è la casa è la casa senza sangue più che altro Victor io spero che giochino bene il fattore Wanda dentro c'è Scarlett ah ok dentro questo film perché dicono che sarà una cosa principale più che altro è collegata alla serie eh sì perché nella scena dopo i titoli di coda che hanno cambiato tra virgolette sì che hanno cambiato hanno tolto gli alberi senza senza motivo tipo una roba del genere e lei si vede che sta studiando comunque la quella il libro oddio non mi ricordo adesso come si chiama il Dark il Darkhold il Darkhold il Necronomicon sì praticamente sì questo questo ce l'ho qua guarda che sarà importante bello dicono in questo in questo nuovo film cioè sarà basato anche su quello nel senso Scarlett Witch che impara tutto il suo potere anche perché se tu guardi la serie in Doctor Strange 2 ti vedi una Wanda che non c'entra niente con quella che hai visto prima è cambiata completamente quindi è una persona completamente diversa eh sì ma anche come costume c'è la chiarina sì è bellissima a me piace un sacco Lucia una domanda processo Pacciani da che parte sei? posso dire che non una ritima che non no vabbè non conosco faccio una ricerca faccio una breve ricerca ne riparleremo ok asserto sì nel mondo ci fosse un po' se ti rendi conto che lei ha vissuto in un'epoca non sa cos'è la cosa di Pacciani ah mostro di Firenze ok è proprio Lucia ok lo conosco per sconti mostro di Firenze non conosco vabbè ragazzo è il suo alter ego praticamente salutava sempre è il suo un taglio di merengue ragazzi io così che ti compagni venendo ma io e il zio dobbiamo salutarvi ciao bimbi fate un modo piacere immenso ciao ragazzi ti voglio bene ciao 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 ma io volevo sapere l'età di l'età l'età di luna 18 numeri che avanti cosa stai cosa stai calcolando cosa stai calcolando sono a livello 2003 sì sì io sono ufficialmente il dono dei suoi anni eh sì praticamente gli sono posti in ricello allora Lucia ti voglio fare una domanda chiave la voglio fare anche a Monashone anche lei è giovanissima c'è una 23 eh cioè ora a parte Vance siamo tutti deve chiacci in confronto a loro e Lucia Luna qual è una cosa che invidi alla nostra generazione e qual è una cosa di cui sei gelosa della tua generazione rispondi un po' vai vai e ora ti voglio bravo mamma mia allora della vostra generazione il fatto di aver potuto diciamo guardare diciamo film che magari oggi sono proprio la base leggere cose che magari lì erano la base cioè adesso sono la base però sono un po' difficili da recuperare per esempio ehm per queste cose così c'è comunque giochi vecchi per esempio io non ho mai avuto una playstation 1 per esempio quindi tutti i giochi la tv dei ragazzi sì Lucia Luna però queste sono puttanate da geek ti sto chiedendo c'è qualcosa che invidi qualcosa che abbiamo vissuto che dici porca troia l'avrei voluto fare io questa roba la crisi del 2008 che vi posso dire non lo so il problema è che lei un concerto un rave Andreotti cos'è che vuole Andreotti Berlusconi dei vecchi tempi ce la da ride comunque fantastico aspetta che mica è finita i mondiali no no tizio me ne vuoi me ne vuoi da questo paese per sempre prepara Italia 90 hanno fatto le prove le tante la settimana scorsa no dì ma che humor nero no non dire l'11 settembre perché non ha senso no vabbè è tristissimo ma cosa arrivi a prendere di stan no non ha potuto provare la tristezza di non sapere cosa succedeva a Tonio Cartonio in quella cazzo di puntata della Venevisione va bene una cosa positiva su Tonio Cartonio quando andava all'università si ma lasciamo perde poverino che si stava stava malissimo per quelle leggende poveraccio lui sì ma perché poi da noi erano pure confermate perché noi avevamo l'università di lettere a Torino e di fronte agli studi RAI dove facevano la melevisione quindi c'era anche gente che diceva io l'ho visto chiedendo in piazza spromonte il fantasma di Tonio Cartonio io l'ho visto ovviamente non era vero però hai capito vabbè delle cose assurde una cosa positiva una cosa che invece sono felice della mia generazione è il fatto che comunque ci sono cosa? no no hai schifato la prima domanda vabbè vai diamo la seconda hai schifato la prima domanda a parte l'11 settembre una cosa negativa no ma ho risposto alla prima domanda ovvero il fatto che mi sono persa tutte quelle cose cioè che avete potuto fare voi nel senso per esempio Final Fantasy 8 che è uno dei miei giochi preferiti non è che l'ho giocato dalla Playstation 2 io cioè me lo sono recuperato io nel 2016 certo quindi io l'ho fatto di aver giocato Paolo non ho fatto la risposta eh? devi stare calma devi stare calma sono molto aggressiva va bene ci sta e invece una cosa che invece ora te lo dico qual è la cosa invece che credi che sia potentissima nella tua generazione cos'è che non ci abbiamo nella tua generazione ma dipende cioè voi alla fine cioè voi di questa generazione alla fine è stato mi sto facendo un complimento anzi fai parlare una per piacere nel senso che io credo che la differenza più grande sia tipo che ne so tra me e mia madre ma non tipo tra me e Dario cioè come no beh insomma o dico sì c'è differenza però non è ma è una proposta non ho capito no ma non è una cioè non è una differenza difficile da superare capito cioè non so come dirlo hai mai usato che dici cioè oddio nel senso io sono bellissimo bellissimo ci sono un sacco di persone che hanno generazione che non direbbe vabbè quindi mi stai dicendo che la tua generazione è più libera rispetto alla nostra a come eravamo noi ma non è ma dipende dai punti di vista in realtà boh io non sono molto contenta di come sta andando il mondo onestamente no ma lascia pari del mondo dico no la mia generazione e le generazioni dopo le mie che ogni volta la gente mi dice eh sì ma tu come puoi sapere a 18 anni però io la vedo c'è una differenza e c'è una grande differenza io lo vedo con le persone che anche sono tre anni più piccole di me c'è una differenza abissale e questa cosa non mi piace quindi non sono molto vuoi sapere vuoi sapere il trick quando sarai dall'altra parte dirai la stessa identica cosa io non ho capito meno triste è fatto così cioè che quando sarà lei della nostra età dirai la stessa cosa che cioè praticamente dei della generazione precedente sì 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 ho capito sarò anche una vecchia nostalgica probabilmente che dirò ai pedenti mai mai bisogna sempre andare avanti te invece Mona o Ramona mi puoi ripetere la domanda cos'è che subito praticamente cosa credi che la tua generazione abbia rispetto alla nostra io ho 31 anni e te 23 per esempio 23 quindi a parte che la nostra generazione è troppo attaccata ai social queste cose qua insomma questo ci sta ad esempio anche il fatto di vedere che ne so i bambini che invece di giocare magari nei cortili a palla tutti gli altri giochi si facevano da piccoli stanno sempre più invece di schivare le siringhe dici stanno sul teleno esatto stanno su youtube tutti chinati che visione c'hai dei pacchi giochi magari guardano Dario esatto rendi otto generazioni di merda vabbè comunque eeeh niente noi abbiamo poi noi prendi distanza a quello che ha detto il riso assolutamente bannate lui io non c'entro niente vabbè io non ho sentito l'ho detto no 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 ma ti preoccupare non ho una generazione di distanza si è figa di nessuno mi dissocio vabbè e invece per quanto riguarda il te invidi qualcosa della nostra generazione eh fatti i schietti ma io volevo dire quello che ha detto luce luna mi ha rubato la risposta prima e vabbè il fatto di poter provare per la prima volta il cellulare cioè sei così qua cellulare extension che falle allora io il mio primo telefono è fighissimo i primi giochi le prime console prima non c'erano prima c'era il baracchino il telefonino in quel modo ah quello con l'antera di ordini facevi così il Nokia c'era anche questo poi insomma vabbè comunque il Nokia 3310 lo avevo anche io non per dire però ce l'avevo anch'io perché era di mia nonna tipo e quindi un po' cos'è sì però capisci che questo è stato il mio primo telefono ed è appena uscito ed è di tua nonna esatto ma tu salemme riscicare riscicare con le manine a picci osse queste osse il fight o no della riscicare allora io una volta c'erano alcuni cosi che avevano la forma di animali che erano fatti cose tu li lanciavi nel muro quelli spiacevano ah gli spiacevano i cupus ti ricordo erano orribili quelli di Ger che poi si il giorno dopo praticamente le manine delle patatine le manine quelle che facciano anche lo slimer anni fine 80 era allucinante è stato cancerogeno dei livelli totali ma perché il crystal ball ragazzi bello bellissimo bello ora ricerca certificato che non manchia Dario Dario ok ora ricerca perché ci sono i miei contro te ciao Riso buonanotte ciao 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 buonanotte riso ciao 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 io ero dopo che vedevo la chat ma sembrava brutto mandare cioè dirlo no ma infatti ho aspettato ho aspettato buonanotte ciao no ora ricerca lo slime perché me contro te ci pigiano a bestia sullo slime però non è più quello cancerogeno che avevamo noi no adesso adesso ci sono più fumi tossici adesso cancerogeno è un'altra cosa ora è vuoto non c'è più di qua tu non devi sottolineare quello che mi son fermato dal tiro e allora mona no ma sono parlando della plastica no ma ora arriviamo anche alla plastica Ramona qual è il ricordo più bello della tua infanzia aspetta sì 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 no c'era devi mettere un po' d'olio alla porta Dario io ho problemi di memoria ragazzi non so se però come problemi di memoria dai così giovane dovresti essere scattante non lo so chi ce l'ha problemi la mia età scherzato era meno la battuta però se la rovini così è difficile vabbè comunque Nokia 3310 no ok no no e qual è il dice del ricordo ma non lo so boh fare amicizia a scuola cioè elementari le prime amicizie questo no avrei dato fuoco a un cassonetto a Palermo dove stai dove stai che c'è questo accento io Messina ah Messina ok siciliana infatti ho beccato il siciliano ma ho sbagliato la zona un cassonetto fuoco da piccina da ragazzina no no anche se ero un momo a schiaccio perché giocavo sempre tipo nel cortile a pallone con i miei vicini di casa ho capito vabbè Ramone ho capito non lo intendo tante cose ci va a creare te Vince il ricordo più bello che hai della tua infanzia le vacanze in montagna in casa in montagna che bello bello sì no perché raccontami l'esperienza l'esperienza era bella perché ci ritrovavamo tutti in famiglia quindi vedevo c'è una famiglia molto numerosa da parte di mia madre c'ho tantissimi nipoti come li chiamo cioè i figli dei miei cugini c'ho tantissimi nipoti e quindi casa in montagna questa villa che avevamo in montagna crollata poi dopo il terremoto era il luogo di ritrovo di tutta la famiglia che io c'ho a Roma e non vedo quasi mai quindi da bimbo era bello stare insieme ai cugini nipotini più piccoli questo ricordo più bello secondo me dell'infanzia ci sta ci sta ci sta ma non potresti replicare eccolo magari nella tua futura famiglia o magari nella futura famiglia di amici anche sarebbe bello si va tutto in montagna spacca tutto da fuoco ti invece Santone qual è il tuo più bel ricordo di infanzia ma guarda i pomeriggi cioè infanzia proprio infanzia no però gioventù gioventù sì gioventù i pomeriggi addosso ai motorini era tantissima roba dove non esistevano social network quello che aveva il telefono migliore di tutti vedevi due pixel che si muovevano e motorini e speranza di trovare della figa che non c'era sempre impossibile trovarla è l'infanzia di Max Pezzali in sostanza esatto era in quegli anni però e lo sai che a me invece ha sempre fatto un po' repulsione un po' paura il mondo dei motorini perché mi davano l'idea di inaccessibilità ma io sono romagnolo hai capito è un problema è in Romagna quel motore trovavi le marmitte nel brasato che cazzo c'entra no no è di cultura ti riconto che allora vicino a casa mia c'è un posto che si chiama Galliano Park dove c'è Dio Bono ci sono stato una volta una volta ma avevo una fiera io ero il compagno di banco di Andrea Dovizioso ah boi senti la Dovizioso poi noi vabbè Valentino era qua Reggiani era qua Capirossi veniva qua cioè in Romagna si credono tutti i corridori numero uno è quello il discorso cioè c'è un tarlo nella testa del romagnolo nel Fornivese ancora di più hai capito e quindi per noi i motorini erano la base cioè non potevi inseguivi un po' il mito no? il mito sì perché dai partivi dal Ciao poi io ero invasato di Valentino Rossi Ciao me l'hanno rubato poi mi sono comprato l'Energy dopo l'Energy sai io ero uno di quelli che non voleva smanettarci tanto però vai nel variatore una marmitta poi dai io pure mi vanno rubato del Ciao eh io facevo una scuola dove sono diventato operatore alle macchine utensili quindi noi cioè dovevi saper fare il meccanico se no non avevi la cazzimma che ci voleva nel giro e quindi eravamo tutti invasati di quella roba lì go-kart motorini se ti piace il mondo lì certo sono ricordi meravigliosi però io purtroppo non ho vissuto quella roba lì almeno io motorino ho mai avuto però io ho avuto l'infanzia tipo ragazzi della via Pall perché qua fuori alle mie spalle c'è una collina con la rocca di Arona che è diroccata però c'è il parco dove si può andare c'è su un bar poi c'è tutto il prato è proprio collinare capito una discesona e c'erano tutti i resti del castello e quindi con vari amici avevamo due sorte di squadre con le basi ognuno aveva queste basi e sostanzialmente si giocava la guerra e ci prendevamo legnate letterali con i bastoni perché ogni tanto al pub c'è sempre qualcuno che parla di bambini e legnate l'altro giorno l'altra volta Masullo ora te ma perché no ma nel senso poi tra altre cose da parte della crescita picchiare ma aspetta ma che cazzo avevamo a me è successo dopo ce lo spieghi dai c'erano proprio i ruoli no c'erano erano quelli con i legni c'erano poi invece quelli che erano si apprendicavano sugli alberi e ti bersagliavano di pigne ma la cosa bella scimmia era di scimmia no ma c'era c'era un mio amico c'era un mio amico che lui praticamente aveva inventato questo gioco ma perché poi era una cosa seria c'erano una lord dietro cioè era proprio come se fosse un reame fantasy e lui aveva fatto lui girava ogni volta con quei hai presente le cartelle quelle del catechismo fatte di plastica ondulata sì 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 lui praticamente da suo padre che lavorava in una copisteria lui aveva disegnato questa banconota che si chiamava banconota che si chiamava sloti con il pipistrello come simbolo e lui aveva la valigetta piena di mazzette di questi soldi di carta che erano la moneta di scambio con cui tu potevi comprare armi basi e cose del genere e potevi anche picchiare gli altri per rubargli i soldi era questa cos'è Far Cry tipo era un colombuti voi scherzi ma ovvio ma non è che ci si faceva non è che ci si legnava da farci uscire il sangue ovvio no non sempre capitava l'incidente che picchiai troppo forte non sempre vabbè perché ogni tanto va arrivare il testa di minchia che ti diava la picchiata in testa quello un po' più esuberante però in generale cercavano di non farci troppo male e era veramente bello io ho proprio questo ricordo delle giornate passate dal pomeriggio prestissimo fino a quando scendeva il sole a fare questo gioco ed era bello perché vivi proprio l'avventura avevi la base che poi tante cose penso che abbiamo rischiato la vita molte volte perché queste basi in realtà erano sui pezzi di roccati della rocca e quindi ogni tanto qualcuno volava giù dal muretto e si faceva male però perché era un po' pericolante una guerra vabbè ma si ho letto i ragazzi della via palla il concetto era quello sembrava rast sembrava rast senza morti per polmonite però dicevi luce luna il ricordo più bello della tua infanzia allora i ricordi più belli della mia infanzia allora io non avevo amici perché ho sempre abitato in culo alla montagna letteralmente in un paesino terribile di non lo so tipo 600 abitanti credo e per andare a scuola dovevo farmi tipo un'ora di macchina mica che palle mamma mia quindi non ho mai avuto amichetti che venissero a giocare a casa mia né io potevo andare a giocare con loro quindi il mio unico amichetto era mio cugino che era letteralmente il mio vicino di casa c'era un cancelletto che separava i nostri giardini e io giocavo solo con lui il nostro passatempo preferito era buttarci da un muretto che al tempo sembrava tipo altissimo probabilmente metro e cinquanta adesso qualcosa del genere proprio per noi era tipo e ci buttavamo dal punto più alto di questo muretto sotto cioè per terra proprio così boom ci buttavamo proprio di forza c'era il prano vedi che è comune non è una cosa strana oppure una volta abbiamo comprato uno skateboard nessuno di noi due sapeva andare in skateboard quindi invece di andare in skateboard come si fa in piedi con i piedi sullo skateboard cosa abbiamo fatto ci siamo seduti sullo skateboard in due e siamo notonati giù dalla discesa che andava verso il garage della casa quindi proprio così c'ho ancora la cicatrice lui si è spaccato la schiena si è fatto proprio tipo dei tagli giganti a me c'ho ancora la cicatrice qua in mezzo al dito comunque sono questi più belli senti riusci l'uno a questa persona che è caduto dal muretto si chiamava Kertz no ah no no è una storia diverso no è una storia no ti ho sbagliato e ok comunque ti sei divertita la ricordi con piacere la tua infanzia non è che sarà traumata ma oddio no in realtà è stata abbastanza traumatica ok perché più che altro è stata segnata da questa solitudine incredibile cioè nel senso io ho sempre giocato da sola giocavo da sola in giardino immaginavo le storie da sola il cugino è ancora vivo si si il cugino è ancora vivo e te invece tizio ce l'avevi ricordo di infanzia sì uno bello allora te ne dico due il primo era quando andavo in vacanza centro estivo estate ragazzi perché non c'era la mia solita compagnia che frequentavo durante l'elementare che mi conosceva come il nerd e quindi mi lasciava da parte invece lì nonostante fossi nerd anzi piaceva molto di più il fatto che io magari portassi dei fumetti parlassi dei vari personaggi era apprezzata questa cosa invece nel mio nella mia normale comunità no erino sfigato e basta questo è il primo e il secondo è quando giocavo a Streets of Rage con mio padre piccolino col Mega Drive ci mettevamo davanti al televisore lui prendeva il il wrestler quello grosso Max io prendevo il bambino e andavamo a spaccare le facce in giro per il gioco beh beh quando condividi qualcosa con tuo padre specie se innovativo perché comunque i padri in quel periodo lì insomma i videogiochi li vedevano un po' a volte con con circospetto con soprattutto nei paesini io per esempio con mi padre credo di non aver mai giocato a niente nella mia vita con i videogiochi e nemmeno con mi madre credo sì c'è stata un po' di più dietro a volte si sedeva a guardarmi ma giocati cioè che abbiamo giocato insieme mi pare mai eh ma non lo so era un'altra generazione a volte mi trovavo magari che non riuscivo a dormire andavo in salotto e trovavo alle due di notte mio padre impazzito con Super Mario o con Zelda mai successo mai mai successo purtroppo no ma Zulo te invece hai avuto esperienze di igiene addio che è successo si sta preparando aspettate un attimo ah deve preparare mamma mia eh quando prepara ma Zulo è un casino ragazzi è un casino ma il core workfeller che fine ha fatto? tira fuori un'arma no allora serramanico no 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 di lore ricordi la storia di Tangela sì me la ricordo ok non so se se la ricorda la chat mi scoccio di recuperatevi i video mi sono vendicato e quello è il mio ricordo più bello rubando questa sempre comunque di furti si parla una cosa incredibile vabbè ecco te invece esperienze videoludiche così Ramona durante la gioventù vabbè avevi detto Final Fantasy 8 che quello no l'ha detto Lucia Luna ho già ascoltato il soggetto incredibile sto morendo io ho avuto il mio primo approccio con i videogiochi con la Playstation 1 di mia sorella con Pac-Man Pac-Man poi c'era il il giocino di Harry Potter allora c'era un Pac-Man mi ricordo Adventure non mi ricordo però era tipo in 3D fa non si ricorda ci sono un po' di robe non lo so l'ho inventato io so Adventure però era bellissimo mi sa che era veramente Pac-Man Adventure sai no Pac-Man World era per la Playstation Pac-Man World era per la Playstation con lui era tipo 1 si si era Pac-Man World e in 3D troppo bello eh troppo bello vabbè poi c'era la sirene oddio tanti giochi insomma quelli che erano di mia sorella poi sono diventati i miei giochi alla fine della Playstation per me è stato Crash Sega Mega Drive è stata la mia prima console però mi sono sfondato veramente tanto alla Playstation tantissimo soprattutto con giochi clonati vabbè ce n'era 2 miliardi a giro è stata la console della mia sì dai della mia infanzia nonostante abbia iniziato col Sega Mega Drive ne abbia dei bellissimi ricordi però la Playstation 1 la Playstation 1 cioè Vance che te Vance forse già la 2 c'avevi quando no io ho avuto anche la PS1 mi è stata regalata ero molto piccolo non ci capivo un cazzo era una di quelle console piene di giochi già installati dentro comunque cioè super tarocchi vabbè però i primi videogiochi mi ricordo i primissimi sul pc di mio padre con Mami sui flop sì Cristo Dio mamma mia mi ricordo il gioco di Popeye di Braccio di Ferro Circus Charlie Madonna Circus Charlie anche Hyper Olympics te lo ricordi dovevi pushar a diritto boh è bellissimo c'erano tantissimi giochi Circus Charlie vorrei rigiocarci oggi perché uno è forse il primo gioco che abbia mai giocato era Mangia Soldi quando ho cominciato a giocare da solo si è stato con la playstation 2 la polistation la polistation la polistation la polistation non era altro che un NES semplicemente poi tipo con i giochi moltiplicati erano sempre uguali quelli clonati 10.000 giochi 10.000 a livelli uguali io invece iniziai con l'attari i miei cugini più grandi che tra l'altro dovevi cercare il canale per giocare a Space Invader se non beccavi il canale io me lo ricordo ancora 0 era AV no no io me lo ricordo ancora nella mia prima televisione per giocare al Sega Mega Drive dovevo selezionare il canale 38 poi 38 poi 38 e poi diventò AV insomma AV chiamatelo come vi pare giocavi fighissimo io mi ricordo che la Wii metteva sulla Wii bella la Wii la Wii eh la Wii cazzo era divertente peccato per perché c'erano pochi giochi veramente grandiosi e tanti giochi per famiglie perché a me bastava Wii Sport io ancora oggi ci giocherei giocavo così un altro un gioco dove mi sono divertito tanto cos'era il 95 Dragon Slayer madonna se mi piaceva Dragon Slayer Dragon Slayer io non l'ho mai toccato mai toccato io addirittura io avevo un Macintosh per forma 6 e 30 che era praticamente l'equivalente di un 4-8-6 quando ancora Steve Jobs era andato via poi avrebbe fatto le caramellone quando tornava però lì dentro riuscivo a farci girare Doom in piccolino mamma bellissimo adesso ti gira anche sul tostapane Doom bellissimo no più che altro sono belle esperienze perché cazzo quando switchavi canale eri sul videogioco ce l'avevi fatta cazzo ti eri guadagnato quell'ora e mezzo di videogame perché poi i miei erano severissimi perché sapevano che ci sarei stato tutto il giorno quindi dosavano parecchio le ore di gioco per me è stata un'emozione quando ho iniziato a poter giocare la sera perché la sera per me era impossibile mamma mia anch'io mamma mia l'indipendenza totale potevi fare il cazzo che volevi l'indipendenza giocare la sera c'è tipo io la prima volta oddio non ti posso credere bellissimo fare le 4-5 a sfondarti mio papà è tifoso del Milan quindi dalla mia percezione quando ero piccolo sembra ci fosse una partita ogni mezz'ora ogni cazzo di sera è l'anticipo e il posticipo e poi c'era la Champions e poi la Coppa UEFA ogni cazzo di sera una partita era lì che scleravo però vabbè a me è successo una volta aspetta Lucia Luna perché Santoni prima gli è venuta in mente una roba no mi era venuta in mente quando andavo a casa di mio cugino mio cugino di terzo grado lui suo padre era un pilota dell'Italia quindi stavano bene economicamente e aveva botto di computer robe e mi ricordo che mia mamma tutte le volte non ci dovevamo far vedere giocavamo a Wolfenstein 3D bellissimo cazzo orco 2 cioè ragazzi quelli erano anni ma allucinante anche perché non ci dovevamo far trovare perché era era violento no quindi i pixel rossi ma dobbè e tua madre giocava con te no 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 mio cugino mio cugino i miei genitori stavano di sotto a parlare con i pareri io invece mi ricordo come se fosse ora la prima volta che capì che i miei si sarebbero levati dal cazzo di casa per andare a lavorare al pub perché prima del ristorante mi facciavo un pub e avrebbero fatto le 3 e le 4 tutti i giorni della settimana io cazzo ero io quando mi dissero Dario purtroppo potremmo stare un po' meno qui a casa con te no ma non vi preoccupate ma poi ragazzi a 15 anni cazzo a 15 anni mi rompevo di videogiochi e seghe tutto il giorno come un pazzo bellissimo dicevi luce luna a volte anche assieme certo con videogiochi porno chi non ha scaricato legalmente cazzo sexy bitch 0 sexy bitch 3 o custom made dai ragazzi di cosa stiamo parlando che cazzo di bei tempi prego no quello che diceva Victor nel senso che che mi non me lo potrò mai dimenticare era uscito tipo un gioco di super mario tipo tennis qualcosa del genere per la wii ok il pomeriggio l'abbiamo comprato la sera io e mia sorella volevamo giocarci questa cosa delle partite mio padre doveva guardare per forza la tv ma lui stava dormendo non stava guardando la tv lui stava dormendo quindi allora mia sorella così snichi snichi premiamo il pulsantino della wii che era là davanti proprio mio padre mio padre si sveglia e dice no non potete giocare devo guardare la tv ma non la stava guardando è il tipico dei padri classico è proprio classico mamma sta cosa ma e quanti anni ha la tua sorella 4 in più di me ne ha 22 vabbè quindi c'era parecchia complicità eccetera insomma non avete ma in realtà no cioè mia sorella mi ha odiata per tutta la sua vita però ok quindi senza mia sorella che ti odiava è il top insomma vabbè questa cosa abbiamo anche tutto il tuo padre tuo padre non guarda la tv faceva shifting direttamente sulla partita quindi wii è stata la tua console dell'infanzia praticamente il nintendo direi nintendo console portatile quindi il ds il dslite poi il dsi io le ho avute tutte le console del nintendo va bene della nintendo è proprio la fine via è proprio la fine l'ottica di non poter di non poter giocare video gioco le sere il game boy è stato si però aspetta cioè victor ti rendi conto che questa ragazzina da piccina ha avuto il ds con doppio schermo schermo retroilluminato il touchpad oddio oddio io ho avuto il nintendo ds con la gigantesca vabbè ma non cambia nulla era retroilluminato due schermi diciamo vabbè e che dovevi avere lampione sopra perché sennò il più grande nemico del game boy il buio esatto ma anche il sole non era tanto amico no boh te lo sfondavate io comunque avrei potuto avere queste cose perché mia sorella è del 99 quindi uno pensa vabbè ce l'avevi da tua sorella mia sorella queste cose non le cagava quindi mi ha anche privato di questa cosa perché cioè perché io non ho mai avuto la ps1 se ho una sorella del 99 che magari la poteva avere non lo so la ps2 qualcosa del genere però no perché a lei non l'interessava e quindi io non le ho mai avute no anche l'advance il primo advance quello fatto insomma che sembrava navicella spaziale quello non era retroilluminato il ds poi lo capirono e con l'sd sì l'sd sp sp quello che il quadratone che si apriva bellissimo il quadratone esatto fantastico la migliore di tutto la console migliore del mondo Cristo Dio ci giravano i giochi del Game Boy Game Boy Advance era retroilluminato te lo mettevi in tasca che era una bellezza perfetto cazzo non costava neanche troppo tra l'altro all'epoca mi ricordo non costava questa girazione non dovevi poi ci avevano fatto qualsiasi edizione che cosa significa ottima il grillo parlante pog no no per davvero questo è il grillo parlante posso chiedere che cos'è no 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 aspetta quello è il grillo parlante riproduceva le parole che scrivevi e tra l'altro è il giocattolo a cui si sono ispirati quelli della Pixar per fare Mr. Spell di tua storia esatto bellissimo e via funziona ancora in teoria sì in teoria se i contatti sono puliti se ci mettono le batterie dovrebbe andare bellissimo ne ho due a casa poi avevo anche il biglotto è una merda però bellissimo è il biglotto parlante in giro vabbè ma hai anche il Gimi Ridimmi il Gimi Ridimmi forse è sperduto sì è vero che gli premevi la mano era un registratore fare concorrenza al mio televisore inquadrami ah voi che ti so no ah eccolo eh grande bellissimo ottio ma come si aveva quel pupazzo aspetta faccio un cianone quello che si abbassava le mutande sì Jonathan Borgherese sì proprio lui Crayon Cinchione bellissimo Jonathan Borgherese Jonathan Borgherese Lucellino vuoi dire qualcosa perché stavi di qualcosa poi ti ho interrotto mi pare no no sui frangifrutti no volevo chiedere che cosa fosse perché non non l'avevo mai mai vista il Gimi Ridimmi il Gimi Ridimmi quella cosa che aveva mostrato sì sì no ma l'hai spiegato quindi sì 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 non hai avuto un gioco così da piccina con tipo con l'interazione tipo oh oddio sì nel senso Clementino iota iota sì questi qua sì però però in realtà io ho avuto veramente tipo cioè diciamo che la tecnologia se possiamo chiamarla così se io giocavo letteralmente fuori in giardino da sola mi inventavo le storie e basta vabbè quindi sì nonostante tu sia una nativa tecnologica sei comunque una che ha sempre apprezzato l'aria aperta giocato all'aperto quindi non è vero che le diano i bastardi i boomer che i giovani non hanno voglia di andare a giocare a nascondino a ruba bandiera come ai nostri tempi vabbè a parte da te vivevi nel villaggio ho detto nella foresta avevo un bel giardino grande per questo che ho potuto fare queste cose nel senso io ho un cugino piccolo gioca un po' di più magari ai videogiochi perché adesso c'è anche i free to play ma va a giocare a calcio va a giocare nei prati non è che rimani in casa non miscono le cose ma guarda guarda però ti dirò che è una cosa veramente molto rara cioè io conosco cioè per esempio la mia migliore amica ha un fratellino che è piccolo va tipo in quinta elementare cioè ma io mi rendo conto che queste cose non le fanno più i bambini cioè è raro tipo che se tu gli dici a un bambino ma invece di stare a guardare i video su youtube perché non vai fuori cioè loro tipo ti dicono eh no io ho due nipoti di otto anni che scorrazzano eh ma meglio meglio così meglio così diciamo io purtroppo i bambini che vedo non lo fanno quindi non so ma secondo me è anche una questione dei genitori perché tipo io cioè mi ricordo quando ero piccolo mia madre mi portava nel prato cioè arrivavo con le zecche addosso bravo ti capito adesso siccome c'è anche una questione di iperprotettiva dei genitori ma ovviamente non è colpa dei bambini cioè che ne può sapere il bambino ma è anche lo stile di vita purtroppo tanti hanno tanto da fare ovvio certo lo lasciano in telefono però però se i genitori giustamente parcheggiano il figlio e gli dicono vabbè senti tieni il telefono e gli mettono davanti tipo baby shark uno si rincoglionisce appunto prima a vedere quella roba non si capisce lucenina ti faccio una domanda un po' provocatoria se guardassero noi ma dipende perché non si campa più ma a me sicuramente non potrebbero guardare perché no ma anche me farlo di cose noiose no 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 io a me per esempio ci sono tanti giovanissimi che mi guardano no quindi dovremmo sentirci in colpa secondo te a trattenerli in casa oppure no oddio il tuo più giovanissimo però quanto è giovane eh non lo so qualche quindicene vedrai ce l'ho eh eh ma quindici già diverso da otto non giocherò più al micro rottile scusate ragazzi ho veramente sbagliato tutto allora che secondo me il problema anche l'iperprotettività cioè nel senso adesso il metodo educativo è cambiato per forza di cose cioè tipo una volta mi cadde questo tegolino per terra e mia madre mi disse soffiaci sopra e mangialo vabbè vabbè cattumare rambo ma no ma sì ma perché c'è la regola dei cinque secondi capito ormai ti cauterizzava le ferite con un coltello adesso capito mio dio allertiamo allertiamolo a me è lucca purtroppo e dobbiamo affrontare lucca e tutto quello che ragazzi vi saluto vi abbraccio e dai ci vediamo domenica e domani in fiera cioè oggi in fiera domani in fiera e anche lunedì in fiera ci becchiamo ciao ragazzi ciao ciao buonanotte a tutti ciao buonanotte grazie mamma te ciao ciao